Tragico incidente sul versante di vagli del monte Roccandagia nelle Alpi Apuane. Un esclusionista ha perso la vita cadendo a valle. La vittima, Alessio Amato, 33enne originario di Pisa, era in compagnia di una donna e aveva intrapreso la risalita di questo canale quando, complice la scarsa visibilità, si è diretto erroneamente verso delle placche rocciose nella parte orografica destra con l'intento di raggiungere la vetta, seguendo una traccia forse scaricata dal web. Purtroppo questa scelta li ha portati fuori dal canale San Viano, su un terreno molto impervio e ripido, caratterizzato da sfasciumi verticali e da paleo. La ragazza ha visto precipitare a valle il compagno ed è rimasta bloccata in un punto molto ripido. È riuscita coraggiosamente a mantenere la calma e atteso l'arrivo dei soccorritori. Le condizioni altalenanti del meteo non hanno permesso la sua evacuazione tramite elicottero. I soccorritori l'hanno portata giù tramite calata e alle 22.15 è arrivata a Campocatino. La salma dell'uomo è stata recuperata questa mattina dalla squadra dei tecnici che è stata imbarcata dall'elicottero. Portata al campo sportivo di Bagli, successivamente è stata trasportata all'obitorio di Castelnuovo-Garfagnana. Grazie. Grazie. Grazie.